Un applauso! Un applauso! Molto che di soddisfazione dei risultati sportivi perché poi averne fare sport significa divertirsi insieme ai propri amici e proprio compagni di squadra più da avere un anno di ripresa e diventare il diritto sullo sport insieme al campo sicuramente e attraverso l'impegno e la famiglia ci possiamo raggiungere le realtà più uguali per questo Se hanno ovviamente la costruzione noi che abbiamo portato il mio amico e quindi ringrazio tutti quelli con l'oltre che mandano con l'oltre da un'altra parte della nostra città ringrazio per il precedente perché ringrazio che oggi è una giornata particolare con la nostra scuola si arriva a una vacanza non è la prima fase del ricordo, la festa è il primo del ricordo che è tempo che è realizato che ha spazzato io non Vi siete divertiti? Non ho sentito? Allora, potete avere la possibilità di fare la stessa cosa, quindi vi divertiamo stavolta e sicuramente il divertimento, quindi questo lavoro che facciamo oggi è per vedere le diverse società che rappresenta le spalle di un'esercizio di attraversità. E quindi, questo è sicuramente il modo per arrivare a dire con questa nuova vita pandemica. Abbiamo tutti insieme a Matteo, quindi, a finire qui nella casa, ovviamente, continui a fare un'esercizio di 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 un'esercizio. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille.